Elion Chatillon presenta il quartetto Cetra Allora d'accordo, il cliente di ogni nazione qui deve sentirsi come a casa sua, capito? Capito! Guarda questa signorina È simpatica e carina Ma siccome spagnolita devi dirle signorita Inchirarti a parole Olè Su mettiamo le basette Ecco qui le castagnette Un bel paio di baffetti Due colpetti di tacchetti Siamo spagnoli tutti e tre Olè Ci dica cosa vuol Vorrei da voi comprare Abla, abla signor Un piccolo ricordo E lo vorrei portare Orde, orde In Spagna dal mio amo Che simpatica Presto ragazzi Non state l'inozio Fate vedere Vuotate il negozio Bam 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 man ban ban Bam 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 Che faticata Io sono molto esigente Vediamo un po' Guardi che roba, mi dica, le piace No E di quest'altra, che cosa ne dice Ma, le dirò Sì Che non mi va No Che non mi piace Se non le piace, adesso che pensimi Senta, guardi un po' qui Oh, oh, questo sì Ma che cos'è? Che cos'è? Helion Che fibra Helion nella biancheria Sessibon Oh, che fibra speciale Helion nelle calze Sessibon E' un pinato trescic Helion negli impermeati Sessibon Tutto il mondo lo sa E' di gran qualità E' l'helion già di un Che fibra E' di granulare Dio